Da Roberti a Favetta, passando per il rapace d'area di rigore Lattanzio, i gol degli attaccanti premiano comunque il Taranto di Gigi Panarelli contro il Cerignola di Bitetto nel big match della ventunesima giornata del torneo di Serie D allo Iacovone davanti a circa 7.000 spettatori. Un successo quello degli Ionici che segna un passaggio probabilmente fondamentale per il proseguo della stagione e che accorcia ulteriormente la situazione in vetta alla graduatoria. Ora il primo posto per il Taranto è a due lunghezze, mentre il Cerignola resta ad una sola lunghezza dalla capolista Picerno, anche se la squadra di Panarelli in settimana dovrà recuperare anche il match a Bitonto. L'inizio è tutto di marca Ionica, il tecnico tiene in panchina Favetta, ciaccato e ripropone Roberti già a segno domenica scorsa. Ad Agostino le chiavi della manovra offensiva con Giano e Desposito, l'ex del match, a svariare da destra a sinistra. Ed è proprio il numero 5 Tarantino a mettere i brividi ai tifosi ospiti con un calcio di punizione che Cappa è bravissimo a togliere dall'angolino. Dino Bitetto risponde con foggio e lattanzio in avanti, ma la sua squadra nel primo tempo si fa viva in avanti prima, con un colpo di testa dell'attaccante numero 9 di poco fuori, e poi con l'altro centra avanti con un tiro al volo che Antonino è bravissimo a respingere di riflesso. Ma i padroni di casa sono in palla e lo dimostrano alla mezz'ora, quando da un calcio di punizione, una sorta di corner corto, Oggiano coglie anche la traversa. È un campanello d'allarme per l'audace che non riesce però a reagire, ed il gol del vantaggio arriva proprio da destra, dove Oggiano è perfetto nel cross al centro per Roberti, che di testa batte tutti per la festa. Rosso-blu sugli spalti, e buona volontà dai 30 metri a scaldare i guantoni di K, non preciso nell'occasione in corner, e non c'è la reazione del Cerignola, che invece arriva di inizio ripresa. Vito Francesco entra in aria e prova la conclusione da posizione angolata, e bravo questa volta Antonino a respingere. Bitetto inserisce anche lo iodice per vivacizzare la fase offensiva, ed il Cerignola trova subito il pari. Foggia, da sinistra, entra in aria e serve da posizione defilata ad Attanzio, che da pochi passi è abile ad insaccare il suo ottavo gol stagionale, e sul Tanza sotto lo spicchio dei tanti tifosi cerignolani giunti a Taranto. Gli ospiti controllano bene il match proprio nei secondi 45 minuti, infatti, sono arrivati i gol più pesanti in questa stagione per i gialloblu, ma dal cilindro Panarelli pesca Favetta. L'attaccante rosso-blu si fa vedere subito sull'assist di D'Agostino, ma la sfera è alta, poi ci prova dalla distanza anche Roberti, ma K blocca tutto, Bitetto si copre, esce Lattanzio dentro a Pollidori, ma la mossa non funziona e gli Ioni ci colpiscono a 5 dal termine. D'Agostino su punizione pesca, Salatino a destra, in aria, Lander temporeggia, e poi serve un cross a pennello per Favetta, che di testa batte K e mette un'ipoteca sul match. Gli ospiti non hanno più idee ed arriva una sconfitta che accorcia la situazione in vetta e mette inevitabilmente pressione proprio all'audace. Ora la corsa per la Serie C è ufficialmente a tre.